Siamo a Palmanova, al secondo convegno Passive House organizzato da LAPE. Mi sembra molto interessante questa vetrina di professionisti, aziende e progetti che sperimentano la casa passiva in diverse parti d'Italia e d'Europa. Io credo che la nostra regione come laboratorio ed eccellenza sul tema della casa venne e rappresenti questa innovazione che va posta nella certificazione energetica. La certificazione energetica degli edifici non deve essere un semplice timbro che mettiamo ad una pratica in più, ma può e deve essere, e questo convegno lo dimostra, uno stimolo per la ricerca, per i professionisti, per le imprese e per le aziende. Abbiamo visto come molte aziende hanno fatto dei brevetti locali proprio per rispondere a questi criteri di efficientamento energetico. Io credo che sia compito della regione trovare con l'Europa le possibilità di finanziamento non solo per gli interventi, ma anche per queste aziende che continuino la loro sperimentazione in un'ottica di efficientamento energetico che è il paradigma al quale ci dobbiamo sempre di più attrezzare. Le nostre città devono essere rigenerate e la prima rigenerazione è proprio quella energetica.